Un cordiale saluto da Daniele Berlusconi di Trebimeteo.com Neanche il tempo di un miglioramento che giovedì già peggiora nuovamente a partire dal nord per l'arrivo di un impulso di aria molto instabile e fredda artica che determinerà temporali a partire dai settori alpini prealpini ma in rapida estensione anche le pianure e localmente i settori terrenici. Ma vediamo le temperature che saranno in lieve aumento nei valori minimi mentre le massime saranno già in calo al nord con clima già piuttosto freddo sulle Alpi in aumento invece al sud e sui settori adriatici dove il clima sarà piuttosto mito e invece con punte fino a 25-26 gradi. Per quanto riguarda le previsioni vediamo al nord come la giornata inizierà già con piogge ad acquazioni su Alpi e prealpi, fenomeni che poi si estenderanno tra sera e notte anche le pianure risultando talvolta di forte intensità e anche accompagnati da grandinate. La neve cadrà sulle Alpi in calo fin verso i 1000-1200 metri entro la notte sui settori di confine. Per quanto riguarda il centro avremo una giornata con un po' di variabilità soprattutto sui settori tirrenici con qualche acquazione sparso che tenderà a diventare più frequente verso sera sulla Toscana. Asciutto invece è ben più soleggiato sui settori adriatici. E infine il sud dove ci sarà una giornata che partirà con il sole ma con qualche acquazione in sviluppo sulla Campania e sulla Sicilia occidentale già entro il pomeriggio, mentre tra sera e notte i fenomeni tenderanno a guadagnare spazio anche verso le regioni peninsulari. Sarà invece asciutto e ben più soleggiato per tutta la giornata sui settori ionici. La Sardegna invece vedrà una certa variabilità sui settori nord-occidentali con qualche acquazione ma con tendenza a peggioramento in serata proprio a partire da nord-ovest. E per oggi è tutto, maggiori dettagli su 3bmetro.com